Grazie. Io scrivo da tanti anni e mi ricordo che io avevo guardato tantissimi anni, quindi 22 e 24, ho vinto anche il premio internazionale di poesia, ho ripreso a scrivere poesie, ho ricordato i cittadini, i figli sono cresciuti, perché mi erano preso ciò per giocare a casa, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.